Ed ora scontriremo Gaspers Carbures, l'arrangiamento di Donald Trump. Il Gaspers è un canto lavorato e religioso, un canto americano, a un'ottima voce, strutturato spesso secondo schema responsoriale. Insieme a uno spirito, anche di cui si distingue tra le brevi frasi e le scritte, è il prodotto delitto contro tra tradizioni africana e quindi religiosi occidentali. I contenuti sono i primogelogenici, oppure si riferiscono a situazioni sociali ed esistenziali della comunità afroamericana, in condizioni di emaginazione. Il benefattorio ha molti interventi, in particolare il Gordiano, di Fremont, di Fremont, di Fremont, di Fremont, di Fremont e di Fremont. Questa sera il Gaspers Carbures, l'arrangiamento di Donald Trump, a sconteremo, il Gaspers Carbures, 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.